passiamo alla stirpe dei mille con hexwarp trallband un distaccamento che andremo molto rapidi a parlarne primo perché non siamo esperti di stirpe secondo perché la stirpe possiede il forse miglior detachment tra gli index e questo non è a quel livello manco lontanamente risumiamo velocemente quello che fa questo distaccamento e quello che fa Magnus all'interno di qualsiasi lista stirpe i mille semplicemente pari tutto quello che è l'istaccamento base ovvero le tali devastanti eccetera eccetera non è non è uscito benissimo diciamo per guadagnare praticamente hai quello delle zone del campo che devi controllare abbastanza obiettivi per farti le tue come quello dei Necron però il bug che ti dà in realtà è abbastanza ridicolo cioè che quando fai attacchi psichici ti permette di binare uno se sei nella tua zona di aggiungi più uno a ferire binare l'uno a ferire un dice tra l'altro che non è neanche entrambe le cose che fosse entrambe le cose sarebbe molto carino lo stacking e invece è uno oppure l'altro che è fastidioso ma a me è bloccanica piace però il più maggiore è che io sono mi ha detto di Green Knight dove tutto è psionico tutte le mie mische sono psioniche tutto è psionico mi sono andato a vedere un attimo per controllare prima di parlare dell'istaccamento la stirpe e non ha noto che sia stirpe tranne i personaggi non ce ne sono perché infatti hai uno dei potenziamenti o degli stratagemmi è appunto che era gli attacchi di un psionico era lì quella cosa è importantissima per quel distaccamento non c'è un equivalente qua e non hanno potenziato abbastanza cioè per dirti se fosse stato nella tua zona abbini tutto a ferire invece del più uno a ferire sarebbe già stato molto meglio ma avere solo il più uno a ferire in molti casi è molto peggio sì cioè non ti aiuta abbastanza potenziamenti cosa sono più uno forza arcane might più uno forza le armi psichiche dell'unità dei modelli se sei nella tua zona più due la forza questo è un potenziamento che è molto forte né sempre nel contesto di questo distaccamento manifestazione potenziata finché la tua unità è totalmente dentro la zona aggiungi sei pollici al range delle abilità psichiche che specificano un range includendo i rituali e ogni volta che un modello nell'unità fa un test per un azardus per un'arma psichica poi rerollare il risultato anche questo è un effetto molto carino se solo avessi molte maniere per sfruttarla Empirica Onslot fase un modello l'unità se l'unità è dentro la zona aggiungi tre gli attacchi delle psychic weapon da distanza del proprietario questo è carino con alcuni stregoni che hanno dei belli attacchi a distanza l'ultimo è il manto noctileaf mantol affinché nella zona non possono ah ok è praticamente l'unità del proprietario di questo potenziamento conta sempre come essere nella zona ma non possono essere mai spezzati per i rituali oh wow che bello un permanente più una ferire su tre attacchi che faccio però non possono sfruttare la regola di fazione un po' triste perché mi piace questo stile di potenziamento comunque con il backside anche se il backside in questa maniera è fatto troppo forte la regola dell'esercito infatti io non sono sicuro che pagherai 15 punti per questa cosa per merdarmi i modelli sai su chi varrebbe la pena questo potenziamento se lo potesse avere su magnus perché potresti dire lo mando a fanculo in avanti da solo e si arrangia non ha bisogno di supporto non faccio altro ma basta non lo vedrei utilizzato in nessun altro caso è abbastanza uscito male vediamo giusto i tragemmi rapidamente fase di comando scegli un'opzionico da stile per i 1000 che sia un range in obiettivo e controlli e che questo obiettivo sia completamente dentro la flow of magic che l'obiettivo è sticky ed è lo stesso wording di quel tirano direi quindi abbiamo visto che avremo un cambio agli sticky 2 su 2 e soprattutto ricordiamoci che questi sticky qui non vengono tolti da l'unità c0 per come sono scritti perché se sopra c0 non puoi sopra la tera penso che siano così anche gli altri sai deve controllarlo l'avversario alla fine del turno quindi non è specificata questa cosa qua non è specificata questa cosa che il livello di controllo dell'avversario deve essere più alto del tuo ma è semplicemente detto devi controllarlo che è la stessa cosa ma dito diversamente in pratica esatto perché alla fine tu per controllare fai quel lavoro proprio non so neanche perché abbiano specificato però vabbè credo che cambieranno un po' il wording del controllo obiettivo con il data slide dici oddio potrebbero essi potrebbero anche perché l'allenausment di arkansas parlava di solo se non si battere ciò che è il bonus attualmente i bonus all'oc anche se i battere ciò che restano attivi esatto quello è tipo il primo caso che abbiamo visto prima con gli anti standard vedremo allora rap of the doomed fight phase dopo che unità ha scelto i suoi bersagli unità 1000 song che sta per essere bersagliata anzi che sta venendo bersagliata fino a fine della fase ogni volta che un tuo modello viene distrutto tira un dado aggiungi uno se sei nella zona magica al 4 più fai fight on death carino ma cioè in realtà è carino e basta c'è un problema in fondo la stripy 1000 non ha unità da misch decenti no decenti no gli scarabocult che ne in realtà qualcuno gioca un blocchetto però no beh 10 si giocano però sono un determinator per carità se dovessimo giocarle in questo distaccamento fight on death al 3 più non è male tipo se ne sei messo male la peggiore dell'ipotesi lui ti combatte ti carica e poi lo picchi comunque non è male per un cp è solido questo stratagemma ce ne sono molti altri che devo fare al 4 più senza il più uno non specifico fantaria quindi potresti usarlo anche su è vero perché dice un'unità thousand son si anche la mutalith non fa schifo insomma quindi è un deterrente possibile è che diventa un 3 più ha un 3 più ha il modello che combatte lo so però un 3 più è già più affidabile dei questi stavano parlando prima stai pagando un cp per potenzialmente fare fight on death come se ammazzare quello che ti ha ammazzato si ci sta cioè non saprei se è l'utilizzo migliore che puoi farne però ma parliamo un distaccamento comunque non ve l'ho usato quindi no vedremo magari mi lanciano qualcosina in padata slayton strength of time da un'unità di psyker thousand songs fallback e shoot o charge e se sono nella zona magica fallback e shoot e charge sai che è praticamente tutto tranne la mutalith che fa ridere perché dare fallback shoot e charge alla mutalith potrebbe essere utile comunque perché non vuole restare bloccato in mischia vero quindi almeno qualcosa per lui c'è facilmente e tra l'altro vabbè il fallback shoot e charge ti piacerebbe ma anche se non è nella tua zona magica al 100% da fare il shoot se ne fa una ragione è sufficiente ma anche charge se è in mid probabilmente è un'altra cosa che vuoi ricaricare e la carica volentieri insomma tanto in realtà tu lo puoi bersagliare e se riesci a controllare il secondo obiettivo intera di nessuno e renderla la tua zona magica comunque dopo puoi fare tutti e due esatto che deve essere quando viene bersagliato però nel true movement phase quindi se tu all'inizio della fase non lo controllavi puoi andare a controllare dopo no perché specifica di nuovo quando viene stato targettata ah è vero si perché dice when you're targeted e allora no niente e anche quella gioia neanche quella gioia neanche di spostare il modello e poi avere la scelta no no vabbè vabbè peccato possiamo through the veil fase di rinforzo quindi nel tuo movimento quando scendi con le riserve un'unità di rubrico un'unità di scaraboccul che arrivano in riserva anzi che sono in strada di riserva strategica se sono rubric fino a fine la fase ottengono deep strike oppure quando la tua unità viene settata con deep strike cioè scaraboccul l'unità può essere messa sul campo ovunque a 6 pollici dentro la tua 6 pollici dell'avversario dentro la tua zona magica però non si sono interamente dentro però gli scarab non possono caricare nel caso che tu faccia sto già messo di loro due rapide cose questo ci conferma come cambieranno i deep strike a 3 pollici in 6 e la stripy 1000 con i lanciafiammini maledetti loro che arriva a 6 fa paura e che in realtà potevano stare tranquillamente a 9 perché sparano a 9 non ce l'hanno deep strike è vero ti arriva a 9 comunque comunque devono arrivare a 9 però ti arrivano è vero che però sai come si chiama adesso non mi ricordo the quickening uno dei loro rituali che ti permette di far double move non è che ti serva vediamo tempore assurge tempore assurge non è che ti serva più di tanto anche questa ragione ma è mediocre rispetto a quello che è mediocre è bello se avesse permesso agli scarab di caricare sarebbe stato interessante sarebbe stato interessante perché comunque adesso restrizioni cioè scusa quello dei demoni del caos che vabbè lasciamo stare tutto il discorso sui demoni del caos e sul loro futuro triste quello dei demoni del caos esatto quello dei demoni del caos è semplice se tu sei nella tua zona puoi entrare a 6 dai nemici e basta dopo puoi caricare sei tranquillo perché questo no e comunque ha la sua restrizione e puoi farlo solo su quell'unità là solo sui scarabocult perché è un'unità resistente che si parcheggia in corpo a corpo e fa difficoltà a muovere invece i demoni hanno il problema che al massimo servono al 4 e si parla di al massimo sì però non lo so secondo me non lo so è vero che sono una fazione strana i Thousand Souls hanno tutti i loro problemi riguardo a come siano bilanciati però qua è semplicemente un caso di voglierevano dare questa abilità a loro ma hanno fatto copia in colla dell'abilità se l'avessero pensata per loro in specifico come esercito avrei permesso agli occulti di caricare perché in realtà sono mediocre in corpo a corpo esatto per cui tipo anche se glielo lasci fare e vabbè uccidono un'unità e mezzo in più e poi muoiono perché ci sono troppe cose in gioco che fanno troppi danni non resistono come unità e a differenza dei è prevedibile come cosa lì dove stanno atterrando perché devono essere interamente dentro la zona magica tra l'altro se uno è facilmente accinabile chiaramente è alla fine della fase di movimento dell'apdea del giocatore quindi penso che sia già triggerata ah no deve essere all'inizio della fase quindi se tu non avevi quella zona magica la zona magica dove si deve sacciare dove potrei farlo praticamente esatto l'avversario sarà a meno che non sia entrato in rapid ingress il turno prima però ciao qua puoi farlo ah no è vero perché all'inizio si scusa non puoi scendere e poi controllarlo quindi a meno di rapid ingress l'avversario sa già dal turno prima dove tu puoi atterrare ma rapid ingress non puoi farlo comunque perché questa è la tua fase si si no no sto dicendo che se tu fai rapid ingress con un altro modello e un obiettivo e ti fai diventare zona magica non succederà mai non succede mai siamo onesti mi sembra un caso così di nicchia che lascio stare subito facciamo la prossima scoring shooting phase uno stiker unità stiker della tua unità dentro completamente dentro l'area ignora cover per il resto della fase unità qui hai sparato sei stata colpita non può beneficiare della cover per il resto della fase solido sia ok e che tutto il resto non lo è si infatti questo mi sembra forte ne stavo parlando poco tempo fa di ignore cover e dare ignore cover sia a te sia a quelli che vengono dopo di te comunque forte però è che l'unica cosa che adesso mi è venuta un piccolo dubbio è che in realtà la maggior parte del loro e del loro danno viene dai warp flamer che ignorano cover di loro già la cover per cui chi beneficia in particolare di questa cosa è tipo di nuovo muterite ma muterite non fa abilità che fanno danni mortali più che d'attacchi si hanno un colpo di cannonazzo grosso che può beneficiare dal ma no sono indicano dei dinobot si ok siamo ricordati dei dinobot andiamo avanti bene l'ultimo tempista caleidoscopica durante la fase di fuoco avversaria dopo che l'avversario ha scelto un bersaglio un'unità di Thousand Sons Psykers la tua armata l'ha scelta come bersaglio fino a fine fase e sei nel termo completo della tua flow of magic a cover e anche stealth di base a stealth di base e in più a cover se sei dentro della magica ah si scuola ok vabbè è e smoke su qualsiasi unità di Psyker che insomma finché sei nella flow of magic bene un distaccamento molto dimenticabile di Psyker